Benvenuti all'angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Le farfalle non volano da sole, di Alberto Zuccalà. Ad occhi stropicciati. Il pranzo domenicale era sempre offerto da Don Pino. Mangiavamo soltanto un pasto e nella maniera più assoluta non voleva si contribuisse in denaro. Io lavoro per voi, a scuola che siete la mia famiglia. Accettava dolci e altri eventuali esperimenti culinari, ma soldi no, mai. Quando sapeva che qualcuno era rimasto solo in casa, lo contattava personalmente senza pensarci due volte per invitarlo, distorlierlo dalla solitudine ed immergerlo tra noi. A tal proposito ci diceva spesso il deserto è il luogo in cui Gesù è tentato dal demonio, non dovete mai restare soli. Non avevo mai incontrato un sacerdote così simpatico, chiaro nelle omelie, immune di urpelli e fedele al Vangelo, tanto nella vita quanto nelle immagini chiarissime che usava per spiegarlo. Suonava il pianoforte, cantava e leggeva la narrativa contemporanea, altro che teologia, ma più di ogni altra cosa a me restavano impresse la libertà e la fiducia con cui lasciava chiunque le chiavi della sua casa e quelle della panda verde, elevata da tutti noi a patrimonio dell'umanità. Prendersi un po' di tempo e soffermarsi su determinate letture non può fare che bene e il mio tempo si è fermato su Le farfalle non volano da sole di Alberto Zuccalà. Alberto Zuccalà è un medico specialista in radiodiagnostica, ha inventato le graforecensioni e collabora con i maggiori editori, ha realizzato illustrazioni per numerose onlus, per il premio Bancarella nel 2017 e libri tra cui l'opuscolo della marcia francescana del 2018. Ha pubblicato La voce della vita, La fede è, Caro bimbo e altri libri ed è presente sui social con i suoi pensieri e vignette quotidiane. È un modo tutto nuovo quello dell'autore di recensire libri e lui lo fa attraverso i disegni a matita in bianco e nero che poi monta in un breve video e così emerge una forte carica evocativa e immaginifica. Le immagini condensano le emozioni e in questo caso le sane emozioni che possono arrivare maggiormente al pubblico ed è importante questo perché attraverso un messaggio, un pensiero, nessuno possa sentirsi solo. Le farfalle non volano da sole, racconta la bellezza della quotidianità ma anche le sue sofferenze. Pagine toccanti molto profonde che nascono dal desiderio di raccontare una storia ambientata all'Aquila negli anni del terribile terremoto del 2009. L'autore esprime sensazioni, osserva e racconta la realtà vissuta attraverso una scrittura scorrevole e anche molto piacevole ma è nell'incontro con l'altro, nell'incontro con le persone che emerge, che si racconta la rinascita vera e poi soprattutto il tema della solidarietà che non è sepolta sotto le macerie. E allora l'amore ancora, l'amore cercato, desiderato. Affrontare la lettura di questo libro significa anche recuperare il tempo della solidarietà attraverso la sensibilità che di sicuro è una dote che non manca all'autore. Allora leggiamo le Farfalle non volano da sole di Alberto Zuccalà che io ringrazio per il libro a me attenzionato. Se volete seguitemi sul blog www.paginedautore.it o scrivete alla mia mail o ancora mi trovate su Facebook e Instagram. Buona lettura! Grazie a tutti!